C'è un problema di questa Costituzione che non viene mai applicata per i suoi articoli che ripudiano la guerra. Come fare a farla applicare? Come fare? Prima di tutto ci vorrebbe una mobilitazione popolare a riguardo, perché è abbastanza evidente che nel giro internazionale nel quale ci siamo messi le spinte a attività, chiamiamole, che non rientrano certamente nello spirito dell'articolo 11 della nostra Costituzione, sono purtroppo quasi inevitabili. Pensiamo soltanto alla guerra della Nato contro la Jugoslavia, che certamente non ha rispettato l'articolo 11 della nostra Costituzione. Pensiamo anche all'intervento in Libia, che è stato a dir poco molto discutibile. Però non c'è quella reazione che c'era all'epoca dei missili Cruz a Comiso. Non c'è quella mobilitazione che c'è stata per tanti anni perché effettivamente l'articolo 11 della Costituzione venisse rispettato. Non solo quello veramente, perché sono tanti gli articoli della nostra Costituzione non vengono rispettati neanche un po'. Su questo fatto, la cosa strana è che la gente non si rende conto che questo modello di difesa che non rispetta affatto l'articolo 11 della nostra Costituzione, perché è un modello decisamente aggressivo, ci costa anche uno sproposito. Pensiamo solo ai 5,4 miliardi che sono stati dati per l'ammodernamento della Marina Militare un anno e mezzo fa, in piena crisi economica. Pensiamo ai 3,5 miliardi della Carur, ai 180 milioni di dollari a pezzo dell'F35, che fra l'altro non funziona, ma questo è un altro discorso. Sono cose che dovrebbero far scattare delle molle, ma stranamente non scatta, perché probabilmente la gente si è fatta coinvolgere da questo clima di paura internazionale per il diverso, il nemico, l'esterno e quindi a questo punto le spese per difesa sono considerate assolutamente inevitabili, quando invece sarebbe esattamente il contrario. I militari sono sempre stati, dovrebbero essere, stati al servizio della politica, la politica che decide. Quindi io sono assolutamente contrario, sono stato contrario in tutti gli interventi fatti per mascherati da interposizione e da intervento pacifista, che poi spesso si sono dimostrati, anche se per piccole cose però è il principio che conta, di tipo aggressivo. Io sono favorevole all'intervento in Kosovo, all'intervento che l'Italia ha fatto in Libano, sono meno favorevole agli interventi che ha fatti in Libia, ai militari che ha mandato in Lettonia, a qualche cosa che sta facendo in Afghanistan. Quindi i militari fanno quello che dicono i politici, certo poi spingeranno, però mi sembra che in Italia le decisioni le abbiano sempre presi i politici. È possibile per l'Italia avere una difesa compatibile con la Costituzione? Io penso assolutamente sì, però che l'Italia spenda tanto, spende circa il 75% in personale, per cui la maggior parte dei soldi della difesa italiana se ne vanno nel pagamento dell'esercito, marina, carabinieri, guardia di finanza e via discorrendo. I soldi degli investimenti sono estremamente bassi e negli ultimi dieci anni sono diminuiti del 35% o 40%, quindi l'Italia non fa grossi investimenti, ma di quelli veri, non finanzia le aziende che creano tecnologia. Quindi che possa essere completamente allineata la Costituzione? Io credo di sì, perché la Costituzione italiana dice semplicemente che la difesa è per difendersi. Io sono contrario a utilizzare la struttura difesa per offendere, io sono assolutamente contrario, però credo che una difesa assolutamente in linea con la Costituzione sia possibile. La guerra è la globalizzazione con armi. La globalizzazione è guerra senza armi sanguinose dirette, ma con le stesse armi di distruzione di massa, quali sono gli spread, quali sono tutte le misure che stanno distruggendo le economie di tanti paesi. Quindi siamo di fronte a un processo in cui la guerra è diventata un pezzo della normalità di un sistema economico globalizzato, nel quale non solo per la ragione che tutti conoscono ormai, degli smisurati interessi del partito militare industriale, finanziario industriale che alimenta la guerra alimentando l'industria delle armi, ma proprio perché in un sistema di questo tipo la guerra mi pare è diventata endemica, è diventata un pezzo del confronto economico che ci sono tra le potenze, tra gli stati e negli stati. Quindi è diventata la normalità e forse è per questo che c'è meno reazione, così come la precarietà del lavoro è diventata la normalità e quindi scandalizza meno, ci si sta abituando, questa è la cosa più grave di tutte. La guerra è anche costruzione di consenso alla guerra. Come influisce oggi il sistema dei media nella costruzione di un mondo dove la guerra è fatto quotidiano? Il potere da sempre ha cercato di utilizzare i media come trombettieri per promuovere le guerre. Le guerre sono sempre vendute come idealpolitik, una ragione altissima, nobile, per promuoverle, salvo poi essere il massimo idealpolitik, cioè vince chi ammazza di più è meglio degli altri. Devi inventare la bugia e quindi la costruzione della bugia è l'elemento fondamentale di ogni guerra. Tanto basterebbe che quando sono a Mosul dicessero siamo lontanissimi da Mosul, alle prime periferie e da qui ad arrivare in città ci saranno migliaia e migliaia di morti e è appena l'inizio di una guerra atroce. Se avessero raccontato questo anche al Tg1, Tg2 e Tg3, sto parlando della RAI perché così da lì vengo, però per tutti vale, già sarebbe stato il giornalismo onesto. Dopodiché c'è la disparità di trattamento tra i ribelli ad Aleppo, che sono tutti buoni e vittime, e i ribelli a Mosul che se invece sono tutti guerra fondai, giadisti e bastardi, anche un po' cornuti se vogliamo. Insomma, come fare a costruire una condizione di controinformazione? Provarci almeno? Selezionare quello che di buono ha proposto come semplificazione di comunicazione è il web. Il web ha una potenzialità enorme, però va usata con degli accorgimenti tecnici, non possiamo illuderci, ognuno di noi può inventarsi il sito che sbaracca tutto. Internet è un bidone, è come qualsiasi bidone ci sta dentro, la spazzatura è la roba di qualità, decidendo un po' voi bisogna saper scegliere, no? A presto!